Thorino è pulita? No. Poco? Non tanto. Dipende dalle zone. Mica tanto, soprattutto qua in centro. Sì, trovo abbastanza. Discretamente, dipende dalle zone. Sì. Sono andata a messa domenica, effettivamente ho trovato proprio di fronte alla chiesa dove vendevano i fiori un'immondizia tremenda. È pulita in certe zone, in molte altre no. Non meno di altre città Non molto 17 zone fanno veramente schifo, vedi la stazione? Eh, però ne vale la pena Per niente? Non molto Abbastanza? Direi non sempre Così così Non cattanto Quarta rete, non tanto pulita, se lo dico Sì e no È sporca Sì, direi di sì, città abbastanza pulita